Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA, ma non a FIFA 16, ma bensì a FIFA 17, perché ho avuto modo di provarlo e quindi questo è il primo dei due video dedicati al gioco. Non ho purtroppo modo di farvi vedere il gameplay, perché non è stato possibile registrarlo negli screen, probabilmente arriveranno nel corso delle prossime settimane. È appena terminata la conferenza EA a Los Angeles e qual è stata la grossa, grossa novità? The Journey, che è una nuova modalità di gioco per FIFA 17. Beh, prima di tutto Electronic Arts ha annunciato che il gioco passa al motore Frostbite, quindi il motore grafico cambia. E perché è cambiato? Cambia perché sicuramente il Frostbite è più comodo da programmare, visto che Electronic Arts lo usa per tutti i loro giochi, quindi hanno una loro comodità interna. E poi è servito soprattutto per dare nuove animazioni facciali più realistiche, creare gli stadi, gli interni e tante altre cose. E uno si chiede perché hanno fatto questo? Beh, proprio per The Journey. The Journey cos'è? È la nuova modalità che riprende la carriera vista su NBA. Quindi finalmente c'è una modalità storia anche su FIFA, la carriera giocatore cambia e diventa The Journey. Probabilmente però ci sarà comunque quella vecchia perché The Journey ha delle piccole differenze. Iniziamo a parlarne però. Beh, sicuramente la grossa differenza è che non possiamo creare il nostro giocatore. Ci viene assegnato Alex Hunter, che è un giovane ragazza alla sclata della Premier League. E questo è molto importante perché sembra che sarà possibile giocare solo in Premier League, solo con i club di Premier, da quello che ci hanno fatto intendere. Poi ovviamente bisogna aspettare la release del gioco e provarla per ore e ore e ore e vedere se è possibile cambiare club. Ma per ora sembra solo Premier League. Ovviamente non potremo giocare solo le partite ma ci saranno tanti altri eventi. Ci sono le scene di intermezzo, negli spogliatoi, nella casa del nostro protagonista, negli aeri durante una trasferta. Potremo interagire con i nostri compagni di squadra. Ci saranno delle scelte multiple che andranno a influenzare la nostra storia e la nostra carriera. Quindi a seconda di come risponderemo a un compagno di squadra, all'allenatore, avremo ripercussioni reali sulla nostra carriera. Per scrivere la storia, Alex Hunter non ha badato a spese, ha chiesto a Bioware, che vabbè era loro quindi non è che ha dovuto pagare. Ha chiesto supporto agli atleti perché questa modalità è stata fatta con il supporto proprio dei calciatori reali che hanno raccontato la loro storia. Si sono basati su questi racconti per costruire questa nuova modalità. Hanno chiesto l'aiuto dei giornalisti a degli scrittori, c'è lo scrittore della biografia di Beckham, tra gli altri. Ovviamente non ci saranno solo i compagni di squadra ma ci saranno anche gli allenatori perché gli allenatori di Premier sono stati scannerizzati e saranno presenti nella demo che ci hanno fatto provare. Noi siamo nel Manchester United, affrontiamo il Liverpool di Klopp e proprio Mourinho interagisce con noi, ci manda a scaldare, ci fa entrare. Prima di entrare ci dà degli obiettivi che dovremo raggiungere durante la partita per impressionarlo e per poi avanzare con la carriera perché se farete contento il vostro allenatore è più probabile che giocherete le partite dopo e così via. Personalmente con l'idea degli allenatori scannerizzati non vedo l'ora di andare al Watford di Mazzario, comunque da un italiano, perché quest'anno, se non lo sapete, parecchi allenatori italiani alleneranno nella Premier League. Ovviamente potremo allenare il nostro giocatore quindi non dovrebbe esserci più il sistema di sblocco come gli altri anni qui dovevi fare degli obiettivi ma c'è proprio una parte di training molto simile a quella vista in UFC 2 se lo avete giocato quindi potete decidere cosa andare a allenare di specifico quindi se decidete una settimana di concentrarvi sul passaggio migliorerete gli attributi del passaggio ovviamente non pensate di diventare una settimana da montare e aprirlo. È molto 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 graduale ci vorranno degli anni per diventare delle stelle assolute però vi dà la possibilità di decidere voi come impostare il giocatore se volete fare un mediano classico magari potete sacrificare gli allenamenti di tiro per concentrarvi su quelli di difesa se volete fare il regista di una squadra potete concentrarvi sul passaggio piuttosto che magari sugli attributi fisici se volete fare una punta che sa solo finalizzare vi concentrerete sul tiro e così via. Sembra molto promettente come modalità i filmati di intermezzo sono realizzati bene da quello che abbiamo potuto provare era una breve demo di 10-15 minuti quindi non abbiamo ancora una visione completa di tutta la modalità però sono abbastanza fiducioso perché ci voleva qualcosa di nuovo in FIFA e The Journey può essere questo qualcosa di nuovo. Ovviamente spero che si potrà giocare anche oltre la Premier League ma non sono molto fiducioso magari per i prossimi anni. Questo era The Journey, continuate a seguire Spazio Games perché domani uscirà il video con nuovi dettagli sul gameplay. Spazio Games